Allora, metafora di questo Milan, di questo inizio di stagione e anche della scorsa, è come questa camera qui, c'è confusione, roba buttate a caso, vestiti così, casini per terra, questo è l'AC Milan, un casino. Oggi abbiamo vinto tre punti con la Fiorentina rubando, lo posso dire tranquillamente, cioè rubando per il risultato, dico, perché la Fiorentina, mi spiace dirlo, però non è riuscito a segnare solo perché non è stata capace, ok, però non è possibile soffrire un secondo tempo così. Sono contento che abbia giocato il ragazzino, sono contento, perché se lo merita, ha fatto il record, tutto quello che volete, però non è possibile che noi segniamo sul rigore e poi aspettiamo che, insomma, ci salvi il Magna un tanto, un tanto sia a posto, sì. Un'occasione al secondo tempo, non riusciamo a segnare, netta, cioè, che brutta partita, tre punti veramente brutti, però, vabbè, andiamo avanti e cerchiamo di mettere in ordine l'idea, perché qua, sì, non sta andando bene, cioè, giochiamo veramente male, ma male, ma male, ma male, ma male, ma, vabbè. Vabbè, vabbè.